Musica Associazione per delinquere di stampo camorristico, corruzione ed estorsione. Sono finite così in carcere sette persone accusate a vario titolo di aver messo in piedi un sistema di natura estorsiva e delittuosa che riusciva ad essere messo in pratica nonostante alcuni di loro fossero detenuti in carcere. Si tratta di Giovanni Arcaro, Antonio De Feo, Giuseppe Capo, Felice Carraturo, Michele Oscar Caffarelli, Leonilda Curti ed Anna Iuliano. Per i primi sei è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per la settima la custodia cautelare agli arresti domiciliari. Numerose le altre perquisizioni disposte dalla Procura di Salerno sono state eseguite nella mattinata odierna nei confronti anche di altri indagati non raggiunti da misura cautelare. Le ipotesi di reato contestate agli arrestati sono relative alla costituzione di un gruppo criminale ad opera di pregiudicati già detenuti che dal 2009 fino ad almeno l'agosto del 2012, avvalendosi della collaborazione del sovrintendente della Polizia Penitenziaria Arcaro, all'epoca in servizio presso la casa circondariale di Forni, gestivano unitamente ad altri affiliati liberi estorsioni da compiersi nei territori di Ponte Cagnano e della Piana del Sele. Le indagini dirette dalla Procura e svolte dalla squadra mobile scaturirono dal rinvenimento e sequestro ad opera della Polizia Penitenziaria di Salerno Forni di telefoni cellulari all'interno di una cella del carcere ed in uso ad alcuni detenuti. L'importanza dell'operazione ma soprattutto della necessità di interventi da parte dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia e di tutti coloro i quali hanno a cuore l'importanza di tali operazioni perché il problema fondamentale, quindi anche a livello nazionale, generale, dell'economia si fonda sul contrasto alla corruzione. La corruzione a tutti i livelli, non dico solamente, qui il caso era quello dell'agenda penitenziario, ma anche a livelli delle autorità della pubblica amministrazione, mina allo Stato le fondamenta dell'economia dell'intero paese. Si è trattato di un'attività delinquenziale, non all'esterno delle strutture che sono appunto deputate a controllarle, ma addirittura partiva all'interno della stessa casa circondariale. E quindi è molto importante che lo Stato si riesca a tutelare, cioè una forma di autotutela proprio all'interno e a trovare immediatamente, perché l'indagine ha richiesto certamente del tempo, ma non tanto dal momento in cui si è costituita questa associazione che poi ha diretta distorsioni nei confronti degli imprenditori. Il dato negativo è che nessun imprenditore abbia denunciato. Questo è un altro importante aspetto della situazione e per questo mi riferisco anche a parole precedenti da parte dello stesso questore dell'aiuto alla cittadinanza. Più volte si sono avuti degli appelli perché la sicurezza di tutti passa anche attraverso la partecipazione delle persone nel momento, nella denuncia di determinati fatti. Bisogna essere pragmatici. La corruzione è una piaga nella pubblica amministrazione che si sta cercando di arginare, soprattutto con un'azione preventiva. Le norme in materia di trasparenza, di anticorruzione, stanno finalmente trovando la luce, si stanno consolidando e poi c'è l'aspetto repressivo. Però, voglio dire, al pari dell'inquietante deriva corruttiva, c'è di pari passo la capacità da parte dello Stato di reagire a livello investigativo e di disarticolare la ricostituzione di un gruppo molto aggressivo e penetrante, dotato di una capacità intimidatoria molto forte. Questa operazione è importante soprattutto per questo, voglio dire, si è tarpato sul nascere anche con il contributo di fonti, voglio dire, di gente che si è pentita, voglio dire, di poter aver avuto la possibilità di tarpare sul nascere la ricostituzione di un gruppo che era, voglio dire, che aveva grande esperienza in materia e che per il solo fatto, ecco, di sottoscrivere una letta, diciamo, di richiesta estorsiva non lasciava spazio agli imprenditori di reagire. Poi c'è stata questa variabile dell'aspetto corruttivo che è estremamente importante perché attraverso questo infedele servitore dello Stato la struttura si stava consolidando, stava crescendo, è una questione inquietante, però in intera vicenda io vedo la capacità da parte dello Stato, delle articolazioni dello Stato di lavorare in sinergia sotto il coordinamento della direzione del Stato elettorale di mafia e di portare a un risultato concreto, perché questi sono risultati concreti che mi auguro devono dare maggiore fiducia per imprenditori e commercianti per poter affrancarsi da questa piaga camorristica che ancora resiste in questo territorio, che ha sicuramente profili meno devastanti di altre province, ma esiste. L'importante è avere la capacità di essere sul problema, io ho sempre detto che non esistono isole felici, esistono fenomeni che devono essere eseguiti con un'attività preventiva ma anche e soprattutto con un'attività di contrasto alla criminalità organizzata.